Napoli per Eira, la trattativa continua. Ora però c'è qualche ostacolo in più. Il Napoli sembra intenzionato a puntare sull'argentino di proprietà della Juventus per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, secondo quanto appreso in esclusiva da Giamnaples.it, oltre allo Zenit che nelle ultime ore si è fatto avanti per l'ex Udinese, ci sarebbe anche il West Ham sul centrocampista classe 91. Al momento, dunque, Pereira è conteso tra Napoli, Zenit e West Ham. A questo punto entra in ballo la volontà del giocatore, che potrebbe essere decisiva, Pereira avrebbe messo in cima alla lista proprio il Napoli, manifestando la volontà di trovare l'accordo col club di De Laurentiis anche sulla questione relativa su diritti d'immagine. Pereira vuole il Napoli, la settimana prossima può essere quella decisiva.